non tutti ce l'abbiamo il desiderio di svegliarci di smettere di vagare come sonnambuli di smettere di provare a fare la cosa giusta negando la nostra verità ma quelli di noi che lo fanno nuotano in acque pericolose perché una volta svegliati una volta provato anche solo un piccolo assaggio non si torna più indietro grazie